Il senso vero di questa manifestazione Attraverso i luoghi che ci ha raccontato nei suoi testi Ma anche e soprattutto consegnando ai più giovani La possibilità di riscoprirlo per le vie della città Nelle biblioteche, nelle strade dove lui stesso passeggiava Sono molto soddisfatto e ringrazio tutti coloro Che hanno dato il proprio contributo E che stanno attivamente con grande passione collaborando Grazie